Amici benvenuti sul canale poetico Savinotes, ho creato un nuovo video dal titolo inquinamento spero che dopo lo condividete su tutti i contatti whatsapp e se non siete ancora iscritti al mio canale youtube digitate Savinotes e attivate la campanellina per le notifiche. Ho creato questa poesia appunto per far capire che il mondo soffre lo scarico di ogni persona che si libera dal superfluo e lo butta un po' tra la natura inquinando e invece di tenere pulito il nostro habitat naturale tendiamo a sporcare in mille modi e in mille maniere. A volte il mondo ci sembra una discarica aperta ed evidente perché dove andiamo troviamo sempre qualcosa di abbandonato dovremmo invece avere cura della natura perché da essa deriviamo e con molta disinvoltura invece la inquiniamo senza pensarci due volte. Il mondo dovrebbe essere lo specchio delle belle persone ecco perché vorrei che il mondo fosse più pulito e non inquinato come adesso si presenta in varie forme e in diverse zone. Vi leggo appunto adesso la poesia dal titolo inquinamento. Il mondo soffre lo scarico di ogni persona cosa è d'oggetto e dovrebbe essere più unico perché in realtà è un soggetto. dovremmo tenerlo pulito e il nostro habitat naturale ma invece è sempre inquinato una discarica aperta ed evidente. Dovremmo curarne la natura perché da essa deriviamo invece con molta disinvoltura la maltrattiamo ed inquiniamo. Il mondo dovrebbe essere lo specchio delle persone belle, un incanto dalle rose atmosfere, un gioiello da mostrare ovunque. Grazie!